Ciao, oggi mi occuperò del benessere del tuo viso, come avevamo accordato, giusto? Perfetto, vedo che hai una pelle pulita, come? Va bene, sistemeremo anche le sopracciglia, allora. Prima di tutto, nonostante tu abbia una pelle pulita, io passo sempre un po' di stroccante, sì, per rimuovere eventuali impurità. Utilizzo anzitutto un po' di gelizzante sulle mani, così è profumato, è anche piacevole. Questo è il cioccolato, sa di Nutella, buonissimo. E domani sarà di biscotto, dopo aver usato questo prodotto. Va bene. Prima di iniziare, dimmi un po', vuoi provare un po' di prodotti di skin care giapponese, coreana? Sì, fanno parte di un nuovo set di, come dire, di trattamenti, ok? Ti piace, come idea? Perfetto, sì, un paio di cose. Perfetto, sì, un paio di cose. Perfetto, sì, un paio di cose. Ok, perfetto, adesso Lascio asciugare un attimo Allora Ho deciso di farti dei trattamenti ad aria Di appunto utilizzare prodotti purificanti sulle zone Che sono quelle in cui si tende a lucidarsi Oppure ad avere qualche poro e brufolo Mentre ad idratare quelle che solitamente sono più secche Come ad esempio il contorno degli occhi Sul naso, sul fronte e il vento Utilizzerò questa maschera Scrum Mira al carbone Sì, è una maschera Scrum Perché posso applicartela E lasciarle asciugare tranquillamente Ma quando la rimuovo Avendo all'interno Dei piccolissimi granuli Molto sottili Scrappa anche la pelle morta Scrappa anche la pelle morta Allora Chiudi pure gli occhi Se ti rilassa di più Un po' sul mento Sì, è un buonissimo profumo Sulla fronte Sotto il contorno degli occhi Ecco, in questa zona Volevo appunto utilizzare questo prodotto Che si vende sia in Giappone Ma in media in Korea C'è scritto Orange Orange E Sono dei patch Per il viso O per il contorno degli occhi A base di arancia Vitamina E Acido ialluronico E Collagenem Orangue Orangue Sono di questa marca Che si chiama Pure Smile Che Che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visto che mi avevi detto che desideravi anche un po' sistemare le sopraggiglie, ho portato anche gli strumenti adatti. Tranquillo, non sarà niente di fastidioso. Userò pochissimo le pinzette, ho anche questo che è un rasoietto apposito e le forbicine. Allora, uso prima questo per tirare su le sovracciglie, in modo da individuare bene tutti i pianeti. Ok. 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 E adesso però i peretti più piccoli che non si raggiungono con le pinzette utilizzerò il rasoietto. Ok. 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 . Ok. 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 Grazie a tutti. 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 E per farlo utilizzerò questo pen che ho comprato in Giappone. Io personalmente ed è super rilassante per fare i massaggi al viso. E si, guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Finisco con l'olio. E' un olio secco. con l'olio secco. Posso usare tutti. per l'olio secco. 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 Ok. Ok. l'olio secco. E poi lo stendiamo. per l'olio secco. per l'olio secco. Per l'olio secco. Per l'olio secco. Io ho finito. Ci vediamo. al prossimo. Alla prossima. Ciao. Per l'olio secco. Noi. 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 Grazie a tutti.